Caldo bagno De Longhi è programmabile, si sveglia qualche minuto prima di te e scalda. Caldo bagno? Caro, sei in bagno? In bagno? In caldo bagno! In caldo bagno? Arriva! E tu cosa aspetti? Manda in vacanza il freddo del tuo bagno con caldo bagno. Solo De Longhi è caldo bagno. E tu cosa aspetti?